Musica Avevamo un desiderio di aprirci a un'esperienza di accoglienza e ha determinato questa scelta anche la condizione politica italiana diciamo che è stata proprio di più che essere inclusiva di essere invece esplosiva. E proprio dall'accoglienza che è partita la scelta della famiglia Bitontina Maffei che un mese fa ha accolto in casa una famiglia afghana composta dalla giovane 31enne Roela e le sue due bimbe. Così il nucleo familiare grazie al progetto Refugees Welcome è aumentato da 5 a 8 per dare un tetto a queste tre donne in cerca di futuro. Loro da che situazione arrivano? Sono in Italia perché la bambina più grande ha avuto un problema serio, la leucemia e attraverso un corridore umanitario è arrivata in Italia, ha subito un trappianto di midollo ora è ancora sotto continui controlli e frequenta la quarta elementare, la grande. Arrivata in Italia la mamma scopre di essere incinta e quindi è nata in Italia la seconda bambina che è qui con noi ospite, che fa la prima elementare. Adesso la difficoltà più grande qual è? L'obiettivo è quello di rendere autonoma Roela ma dobbiamo cercare in qualche maniera di dargli un'autonomia quindi l'obiettivo nostro e anche dell'associazione è quello di cercare di dare un'autonomia economica e una integrazione sociale. L'obiettivo quando abbiamo deciso di accogliere è stato duplice avevamo due punti da affrontare, il primo accogliere e proprio aprirci a chi aveva bisogno, a chi stava in difficoltà e l'altro invece recuperare forse quella immagine di umanità che un po' intorno a noi abbiamo visto perdere e quindi avevo bisogno innanzitutto che i nostri figli imparassero a conoscere la diversità quindi convivendo poteva essere questa un'ottima lezione e non solo i figli ma anche le persone che intorno a noi ci frequentano. Sotto l'albero quindi magari per l'anno nuovo quello che Roela spera di trovare è un lavoro per dare una vita dignitosa in Italia alle sue figlie.